Un bambino d'oro, perché aveva 13-14 anni. Poi nel futuro ha diventato grande, ha avuto i suoi ideali ed era un ragazzo un po' diverso degli altri. Così il suo ex allenatore di calcio, oggi ristoratore a Giussago, ricorda il bambino e poi l'uomo. Di certo Eddie Ongaro non era un tipo convenzionale, come non convenzionale è stata la sua morte nel Donbass, nelle truppe separatiste filorusse. Una storia alla sua che ha fatto il Giro d'Italia dividendo l'opinione pubblica e sollecitando il dibattito sui social. Tra Portogruaro e San Michele al Tagliamento, dove Ongaro era conosciuto, nessuno però si sente di giudicare. L'editorio è stato un po' scosso dall'evento, perché era un ragazzo che tutti quanti lo conoscevamo. Ha fatto la sua strada e quindi ci dispiace. Per giudicare bisogna conoscere e per conoscere allora poi si potrebbe dire quello che è. Io non do né ragione né torto. Quello che a me interessa è quello che non si devono ammazzare donne e bambini. Papà Sergio e Ziorino ne restituiscono il ritratto di un ragazzo comunque impegnato, intento nelle sue letture e fermo nelle proprie idee. Antifascista senz'altro diciamo, perché noi abbiamo da mio papà sempre parte rossa, ma quei colori non vuol dire niente. Insomma, l'ideale è verli qua, leggeva. Per quello che lui andava in giro per il mondo e sapeva un po' di quello, un po' dell'altro. Un po' per conto suo, ma era intelligentissimo, questo sì. Lui leggeva sempre libri, leggeva, leggeva sempre, sì, sapeva un po' di tutto. Quando per esempio lui è stato un po' in giro per il mondo e non aveva difficoltà a imparare la lingua, era proprio veloce come il vento. Papà e zio, che ai nostri microfoni avevano chiesto un aiuto per riavere almeno le ceneri del 46enne, stasera intanto in chiesa Giussago lo si ricorderà con un rosario, domani con una messa in suffragio. Grazie a tutti.